... Ma che faccio? Ci sputi invece di olio alla? Olio, non c'è niente a Mimì, l'altro giorno ci ha messo quello di cucina, è successo il cinematogra. Tu vieni, te lo do io. Voglio una macchina usata, ciole, scemonita, oppure grasso, che è meglio. Un grasso sai che fa, che è nella catena di cipolloni. Uuuu, 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 uuuu. ... 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